ciao a tutti oggi prepareremo le rose del deserto il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa gli ingredienti sono zucchero semolato scorza di limone burro morbido farina di tipo doppio zero uova lievito per dolci corn flex zucchero a velo e vanillina diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale zucchero semolato la scorza del limone e la vanillina chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10 finiamo sul fondo del boccale aggiungiamo la farina il burro morbido le uova e il lievito per dolci chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4 composto è pronto avvolgiamolo nella pellicola trasparente e riporiamo in frigorifero per 30 minuti abbiamo ripreso il composto dal frigo adesso con l'aiuto di un cucchiaio prendiamo in una parte formiamo una pallina lo andremo a rosolare nei cornflakes compattiamo meglio le mani e posizioniamola su una teglia rivestita con carta da forno proseguiamo così per tutto il resto del composto dopo aver formato le rose cuociamole in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti circa le rose del deserto sono cotte lasciare raffreddare del tutto spolverizzare con zucchero a velo e servire rose del deserto grazie e alla prossima ricetta ecco 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 Grazie a tutti.